Sali! C'è una cosa che volevo dirti. Ti prego, so che è tremendo per te e credo io... Michela, io ti amo. E farei qualunque cosa per te. Darei la mia vita per te e tu lo sani. Io voglio sposarti. Ma soprattutto... voglio che tu sia felice. Quindi devi scegliere una persona che possa renderti felice. Una persona che vada bene per te. Chiunque tu scelga, io ci sarò. Sali! Volevo solo che tu lo sapessi. Sali! 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 Sali!